Ma perché percorrere quasi 500 chilometri per arrivare da Volterra fino alla periferia di Napoli, fino a Scampia? Perché arrivare in questo paesone napoletano di 80.000 abitanti, famoso per i crimini, la camorra, gli arresti, le vittime su strada, le piazze dove ogni giorno si consumano affari per milioni di euro con la droga, più che in qualunque altra città d'Europa? Ma perché arrivare, insomma, fin sotto le famigerate vele, il palazzo emblema di questa città dove solo il 10% possiede un titolo di studio e i giovani disoccupati sono il 54,9%? La risposta a tutti questi interrogativi è semplice e spiazzante, perché qui a Scampia c'è un teatro, l'auditorium di Scampia. Un ambiente vitale, un ecosistema di cervelli, un centro di relazioni dove si sperimenta un modo diverso di vivere, basato sul dialogo, sul rispetto, un'alternativa, insomma, alla strada, alla violenza, all'alienazione. L'auditorium di Scampia è uno spazio polivalente, permanente di attività culturali, una fabbrica di idee, di produzioni, di spettacoli, tutto gestito da operatori teatrali e sociali che hanno coinvolto 22 ragazzi di Scampia tra i 18 e i 23 anni e hanno dato vita a un progetto triennale, culturale, chiamato Punta Corsara. Punta Corsara, perché questo nome e chi sono i corsari? Punta Corsara perché ci piace pensare che qui a Scampia si crea una sorta di insenatura proprio geografica, fisica. Un'incursione. Un'incursione, esatto, e quindi da qui il nome di Punta Corsara. Come evitare che diventi l'isola che non c'è di Peter Pan o l'isola utopia di Thomas More? Non lo levo! Non lo levo! Ma è uno sguardo, come dire, orizzontale, no? In un lavoro quotidiano, passo passo, no? Di piccole cose, parallele però, attraverso quindi spettacoli belli, grazie anche a amici come Marco Paolini, Danio Manfredini o Armando Punzo. Che meraviglia! Che meraviglia! Italo Calvino, nelle città invisibili, come saprai, dice che il mondo è un inferno. Il mio compito dell'artista è scovare nell'inferno ciò che inferno non è. Cos'è inferno e cosa non lo è a Scampia? Aiuto! Inferno può essere ed è sicuramente questa realtà che è legata alla droga, alla camorra. Aiuto! Poi è interessante invece vedere questa reazione che probabilmente mi dicono, perché io sono appunto romana, che è un po' anche del napoletano, no? Cioè questa comunque poi adesione, disponibilità, entusiasmo. E' festa! E' festa! Spero! 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 E vai a memorizzare, vai! Armando Punso, nei momenti che precedono lo spettacolo, come vive il Dietro le Quinte? La ricco io! Vi faccio la domanda, forse non la capita bene. Amico mio! No, veramente, vi faccio la domanda seriamente. Armando Punso, i momenti che precedono il Dietro le Quinte, come li vive, come si concentra? Amico mio! Armando? 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 Amico! Armando! Armando Punso, aiuto! Armando Punso, alla base di tutto, perché Pinocchio? Per quale urgenza? Ma perché? Era proprio necessario? Era proprio necessario? Era necessario? Eh sì! Era necessario? Porca puttana miseria! Era necessario? Va bene, senti, passiamo la domanda! No, 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 te lo dico, poi! Anche te l'avevamo già iniziato, vero? Come sempre, non mi fregano! Queste sono le parti migliori, queste qui! Questo è il backstage da morire! Perché non si può mai avere nulla di quello che si desidera! E quindi avevo pensato che, immaginato, questo Pinocchio che arriva veramente a limitare proprio della vita e dice assolutamente... No, io ritorno indietro! No, no, no! Non è possibile, quindi io ritorno indietro! Quindi abbiamo lavorato sia su questa drammaturgia alla rovescia rispetto a Collodi, poi Collodi è un Pinocchio che torna a un burattino! Sì, torna a un burattino, si augura di essere un pezzo di legno, di ritornare alla catasta di legno, quindi di essere questo pezzo di legno poi un po' particolare, magico, che ha delle proprietà straordinarie, che non si capisce bene com'è che è arrivato lì e si augura di andare ancora più indietro fino a diventare albero, foresta, cioè quindi proprio... Voglio essere sempre meno! Voglio essere sempre meno di quello che vi aspettate! Senti, dal carcere di Volterra a Scampia, un altro quartiere in un certo senso recluso, o perlomeno recintato, dei luoghi comuni e anche da purtroppo una certa alienazione oggettiva, e acquisterà ancora più senso Pinocchio qui? A che senso acquisterà secondo me? Ce te lo dirò dopo che... No, no, sicuramente siamo arrivati qui e io sono contento di questo perché ci sono delle analogie fortissime tra l'esperienza, tra questo carcere visibilissimo che è quello da cui proveniamo noi e Scampia che pur essendo un luogo, insomma, in fondo è un quartiere in una città, adesso sotto i riflettori, profondamentalmente è un po' un carcere, o comunque viene visto così come un carcere a cielo aperto, insomma, evidentemente, quindi secondo me le analogie sono forti e credo che quindi ci stia bene, sta bene proprio con tutta l'esperienza, il tentativo di trasformazione a partire dal teatro, da una gradinata, una scenografia degli attori, di cambiare, di poter modificare, quello che è avvenuto poi nel carcere di Volterra. Finito lo spettacolo, le luci si spengono, la festa è finita, gli amici si dividono, no, the dream is over, non lo so, il sogno è finito, oppure no? Spero che duri per sempre, spero! C'è stata una tempesta, spero che non finisca mai. La tempesta? La tempesta. Perché non vuole che finisca mai? Ma è collegata al momento, le difficoltà, il momento creativo nasce dalle tempeste, nasce dai momenti tragici, drammatici. Spero che duri per sempre! E tempeste ci permetta di stare sempre in attenzione creativa. Tempesta, limiti, no? Sì, sì, andagli a cercare, andagli a cercare, ma questo è un vero opposto perché credo che ormai viviamo in un mondo dove invece tutto questo viene completamente negato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.